Nello scorso video avevamo visto un po' di storia degli editor Vim e NeoVim, mentre oggi iniziamo a vedere un po' le basi per poter iniziare ad utilizzare Vim e faremo addirittura ciò che nessun uomo è mai riuscito a fare, cioè uscire da Vim. In fondo si tratta semplicemente di un editor di testo. Quanto sarà mai difficile da utilizzare questo Vim? Prima di continuare ti ricordo che io faccio video dove parlo di Linux, di programmazione e di retrocomputing. Se questi argomenti ti interessano, iscriviti al mio canale, attiva la campanella, commenta e metti un like a questo video. Iniziamo col dire che Vim, essendo un editor molto configurabile anche a livello di flag di compilazione, di default viene installato nelle varie distribuzioni Linux in una versione minimale che contiene solo una frazione delle funzionalità potenzialmente disponibili, giusto per fornire un editor compatibile con VI ma con pochissime funzionalità aggiuntive. Però, proprio perché Vim in un modo o nell'altro è installato di default su qualsiasi distribuzione Linux, in questo video voglio parlare delle basi dell'editor Vim che già ti ritrovi, senza bisogno di installare o configurare nulla. In un prossimo video esploreremo le funzionalità aggiuntive di una versione completa di Vim, o meglio, di NeoVim. Ma oggi appunto partiamo dalle basi, di modo che se un domani ti ritrovi a fare SSH su un server e non hai i privilegi necessari per installare il tuo editor preferito, ecco che sai comunque di striccarti con la versione di Vim che trovi già installata. Quindi, la prima cosa che differenzia Vim da un qualsiasi altro editor che trovi normalmente in giro è che Vim è un editor modale. Parentesi. Visto che molti hanno commentato nello scorso video riguardo all'editor Helix, sì, sono consapevole che Helix è un editor modale, ma concorderei con me che Helix è l'eccezione piuttosto che la regola e che il 99% degli editor in circolazione non è modale. Dicevo, cosa significa editor modale? Significa che invece che comportarsi come gli altri editor, cioè quando apri un tasto la lettera corrispondente al tasto viene inserita nel testo che stai scrivendo, su Vim i tasti si comportano in modo diverso a seconda della modalità in cui ti trovi in questo momento. Se non ci hai capito nulla, non ti preoccupare, quando arriveremo alla parte pratica ti sarà tutto più chiaro. Vim ha quattro modalità di funzionamento. Abbiamo il Normal Mode, che come dice la parola stessa, è la modalità in cui ti dovresti ritrovare la maggior parte del tempo. Normal Mode è la modalità dove effettui le operazioni più comuni sul testo, come spostarti da un punto all'altro del testo, fare copia e incolla, ripetere l'ultima operazione, annullare l'operazione precedente e così via. La cosa da imparare subito è che indipendentemente da che modalità ti trovi, il tasto ESC ti porterà sempre in Normal Mode. Premere il tasto ESC in Normal Mode non ha nessun effetto, o meglio, ha l'effetto di annullare l'operazione che stavi facendo, nel caso l'operazione richiederà pressione di tasto in sequenza. Quindi, se hai perso il filo e non ti ricordi in che modalità ti trovi, premi sempre ESC anche due o tre volte, che male non fa, così sei sicuro che ti ritrovi in Normal Mode. Abbiamo l'Insert Mode, che è la modalità che già conosci dagli altri editor di testo, dove per l'appunto inserisci del testo all'interno del file che stai editando. A differenza degli altri editor, però, in Veeam non passi la maggior parte del tuo tempo in Insert Mode, ma l'idea è quella di apportare una piccola modifica al testo e poi passare appena puoi in Normal Mode. Se ti stai chiedendo il perché non passare la maggior parte del tempo in Insert Mode, come fareste con un qualsiasi altro editor, adesso è un po' presto per parlarne, ma ne trarrai sicuramente a beneficio quando approfondiremo il Normal Mode. Ci sono tantissimi modi per entrare in Insert Mode, tutti molto utili, e li vedremo nel dettaglio quando passeremo alla pratica. Abbiamo poi il Command Mode, detto anche X Mode, perché ci permette di dare i comandi X, come per esempio il Trova e Sostituisci, che tra parentesi si comporta esattamente come il comando SED che avevamo visto in un altro video. In Command Mode, oltre al Trova e Sostituisci, puoi cambiare parametri di configurazione al volo, puoi aprire altri file, spostarti da un file all'altro e, soprattutto, puoi uscire da Veeam. Per entrare in Command Mode, partendo dal Normal Mode, premi il tasto Due Punti. Abbiamo infine il Visual Mode, anche se tecnicamente di Visual Mode ce ne sono tre, ma per oggi semplifichiamo e li chiamiamo tutte e tre Visual Mode. Il Visual Mode è una caratteristica unica di Veeam, che non trovi nell'editor originale VI o nei suoi cloni. A dirla tutta, il Visual Mode nasce nell'editor Elvis e Veeam lo ha copiato, quindi se per qualche strana ragione ti ritrovi davanti all'editor Elvis, sai che puoi usare il Visual Mode pure lì. Il Visual Mode ti permette di selezionare porzioni di testo per poi compiere delle operazioni su queste porzioni di testo selezionate. È un po' l'analogo di selezionare del testo col mouse o premendo Shift più frecce negli altri editor. Si chiama Visual Mode perché ti permette di vedere qual è la porzione di testo su cui stai operando. Nota che, visto che il Visual Mode non esisteva nell'editor VI originale, non è nemmeno supportato in Veeam quando Veeam si trova in modalità compatibile VI. Già, la modalità compatibile VI. Veeam supporta una modalità compatibile con l'editor VI originale degli anni 70, dove disabilita ancora più funzionalità e si comporta in maniera ancora meno intuitiva. Se ti stai chiedendo il perché di questa modalità, è per ragioni burocratiche di cui non voglio entrare in merito. E veniamo finalmente alla pratica. Su Ubuntu, ma questo discorso vale per tutte le distribuzioni basate su Debian, l'editor Veeam viene installato di default col pacchetto Veeam Tiny e lo puoi avviare usando due comandi. Se lo avvia usando il comando VI, ecco che Veeam parte in modalità compatibile VI e questo non ci piace. Per avviarlo normalmente, il comando da dare è Veeam.tiny e solitamente viene seguito dal nome del file che vogliamo editare. Se usi una distribuzione non derivata da Debian, probabilmente il comando da dare è semplicemente Veeam seguito dal nome del file che vogliamo editare. Se vuoi seguire usando lo stesso file che uso io, si tratta della mia libreria VTransport Elixir, trovi il link in descrizione, e questa è la parte scritta in Rust. Non ti preoccupare se non conosci Rust o non sai programmare. Sto utilizzando questo file solo per avere un file di testo su cui mostrarti le varie funzionalità dell'editor. Vedi qui un errore riguardo al file defaults.vim. Questo è un bug noto su Ubuntu 22.04 che è stato risolto nelle versioni successive ed è totalmente innocuo, per cui possiamo tranquillamente premere Enter e fregarcene. Ed ecco che ci troviamo con il file aperto in una schermata grigia e triste. Purtroppo la versione minimale di Veeam non supporta la sintassi colorata. Ma non ti preoccupare, in un prossimo video vedremo che la versione completa di Veeam e anche di NoVeeam supportano schemi di colori anche molto piacevoli da vedere. Ok, abbiamo aperto il nostro file e ci troviamo in Normal Mode. Sebbene sia possibile spostare il cursore usando le frecce direzionali, io ti consiglio di imparare a spostarti utilizzando i tasti H, J, K ed L per due ragioni. La prima è che anche se per una fortunata coincidenza come avevamo visto nello scorso video, ma i tasti H, J, K ed L si trovano nella riga base della tastiera, quindi le tue mani debbono fare meno movimento. La seconda ragione più importante secondo me è che quando arriveremo a parlare di macro, le macro registrano i tasti H, J, K ed L ma non le frecce direzionali. Quindi, per ricordarci a quale tasto appartiene quale movimento, la L è tutta a destra e quindi muove il cursore a destra. La H è tutta a sinistra e quindi muove il cursore a sinistra. Ora, per la J io uso un'assonanza, cioè la J va giù. Non ci resta che la K che per esclusione va su. Approfondiremo poi i vari modi di muoversi all'interno del testo in un altro video. Ora voglio solo fare una breve panoramica sulle quattro modalità di funzionamento di Vim. Uno dei modi per entrare in Insert Mode è quello di premere il tasto I. Anche qui ricordiamoci I per Insert. Una volta in Insert Mode possiamo scrivere quello che vogliamo. Per esempio, salve mondo. Ora, ti ricordi come si esce dall'Insert Mode? Se c'è una sola cosa che voglio che ti ricordi di questo video è che per uscire da qualsiasi modalità e tornare in Normal Mode il tasto da premere è ESC. Come ho detto all'inizio video, mal non fa premere ESC più volte. Diamo una breve occhiata al Visual Mode. Uno dei modi per entrare in Visual Mode è quello di premere il tasto V. Ricorda, V per Visual. In Visual Mode mi posso spostare con gli ormai noti tasti H, J, K ed L per selezionare la porzione di testo che mi interessa. Come si esce dal Visual Mode? Hai indovinato, premendo ESC. Vediamo infine il Command Mode. Per entrare in Command Mode basta premere il tasto due punti. Se conosci l'inglese ti può aiutare a ricordare un'assonanza. In inglese due punti si dice colon. Quindi premi colon per andare in Command Mode. Ed in Command Mode abbiamo la funzionalità più utile di tutte, quella di uscire da Vim. Per uscire il comando è Q. Nota che il Command Mode è una linea di comando, quindi i comandi verranno eseguiti alla pressione del tasto Invio. Nota che non siamo usciti come speravamo, perché abbiamo effettuato delle modifiche al file e Vim non sa se vogliamo uscire scartando le modifiche oppure uscire salvando le modifiche. Oggi vediamo come uscire scartando le modifiche. Se noti nel messaggio d'errore ti dà un indizio, che è quello di utilizzare un punto esclamativo. Proviamoci. Due punti per entrare in Command Mode. Q per uscire. Punto esclamativo per scartare le modifiche. Aspetta. Come si esce dal Command Mode senza eseguire il comando? Esatto, premendo ESC. Ma torniamo alla nostra uscita. Abbiamo detto due punti Q. E finalmente, premendo Invio, siamo riusciti ad uscire da Vim. Nei prossimi video approfondiremo un po' di più le varie modalità di funzionamento di Vim e vedremo all'atto pratico cosa rende Vim un editor così potente. Grazie dell'attenzione. Ti ricordo che troviamo i video sia su YouTube che su Odyssey. Trovate tutti i link in descrizione. Alla prossima video. Ciao!